Ciao a tutti e a tutte, nel video di oggi si parla di classici e giuro che non l'ho fatto apposta visto che è appena uscito il video sul gruppo di lettura in cui appunto vi ho proposto solo libri classici, però vabbè è andata così. Ho aspettato praticamente un anno per parlarvi di questo libro nei classici perché adesso è il momento adatto, comunque si sta avvicinando al momento giusto per leggere questo libro e sto parlando di Canto di Natale di Charles Dickens che io ho in questa edizione della Burr con un prezzo di copertina di 10 euro. Iniziamo subito con qualche piccola parolina sull'autore. Dickens è stato uno scrittore, un giornalista e anche un reporter di viaggio britannico. Per i suoi romanzi sociali, per citarne alcuni possiamo dire Oliver Twist, David Copperfield e appunto questo, Canto di Natale, è riconosciuto come uno dei romanzieri più popolari. Il protagonista di Canto di Natale è il vecchio burbero finanziere Benizer Scrooge che nella notte di Natale viene visitato da tre spettri, il fantasma dei Natali passati, il fantasma del Natale presente e il fantasma dei Natali futuri. Bene o male un po' tutti conosciamo la storia di Canto di Natale anche grazie a tutte le trasposizioni cinematografiche e animate che ne hanno fatto come non ricordare zio Paperone che interpreta Scrooge. Scrooge è un anziano signore, tirchio, severo, burbero come dicevo prima, a me non mi sembra di averlo già definito burbero, che nel corso degli anni non solo ha dimenticato il piacere del Natale e proprio ha cominciato a dimostrare un vero e proprio disinteresse nei confronti del Natale, ma ha dimostrato disinteresse anche nei confronti delle persone sostanzialmente. Canto di Natale è strutturato in cinque strofe. Nella prima strofa Scrooge dovrà affrontare il fantasma di Marley, che è un vecchio socio di Scrooge che ormai è morto. Marley lo avviserà che ci saranno tre fantasmi che andranno a fargli visita e che per il suo bene lui non dovrà sottrarvi sia queste visite. E così un po' alla volta, strofa dopo strofa, anche noi, assieme a Scrooge, faremo conoscenza di questi appunto tre fantasmi, come vi dicevo prima, il fantasma dei Natali passati, quello del Natale presente e quello dei Natali futuri. Ovviamente questi tre fantasmi saranno fondamentali per la crescita di Scrooge. Gli faranno comprendere l'importanza di essere buoni e generosi con chi è meno fortunato, gli faranno comprendere l'importanza dei valori reali e l'inutilità delle cose e dei beni materiali e concreti. La morale trasmessa da Dickens e con Canto di Natale è fondamentale non solo per Scrooge ma anche per noi lettori che spesso ci dimentichiamo le vere cose importanti della vita. Quindi l'importanza degli affetti, l'importanza dell'amore, della bontà verso noi stessi ma anche verso gli altri. Credo che Canto di Natale sia così conosciuto perché è anche così amato in realtà perché non importa l'età, non importa la formazione, non importa la provenienza ma su qualsiasi tipo di lettore provocherà buoni sentimenti e una buona dose di commozione. È un romanzo sicuramente molto breve però è molto di più di quello che sembra. Canto di Natale infatti vuole anche essere una critica sociale, una denuncia alle diseguaglianze, una denuncia allo sfruttamento dei lavoratori e una denuncia alla miseria dilagante nella Londra vittoriana a cui il libro fa riferimento. Ed è anche una lettura, se sia il tempo ovviamente, che sarebbe da fare ogni anno quando si avvicina a Natale per ricordarci appunto dei valori reali e importanti della nostra vita. Altro classico conosciutissimo di cui voglio parlare oggi è Sidarta di Herman S che io ho in questa edizione ad Elfi con un prezzo di copiattina di 12 euro. Herman S è stato uno scrittore, un poeta, un aforista e mi sto dimenticando qualcosa. Sì, perché è stato anche filosofo e pittore e nel 1946, se non mi ricordo male, ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La sua produzione è molto vasta. Considerato infatti che di Herman S troviamo una quindicina di raccolte di poesie e poi circa una trentina tra romanzi e raccolte di racconti. Tra i romanzi più famosi io ve ne cito due, Narciso e Boccadoro che mi aspetto in libreria e appunto Sidarta. Sidarta è ambientato nell'India del VI secolo a.C. ed è un'India ricca di mendicanti, di predicatori, di profeti e sembra quasi un'India molto più contemplativa, meditativa che concreta. E ovviamente questo libro racconta la storia di Sidarta, un ragazzo prima, uomo poi, che passa tutta la sua vita a cercare. Cosa cerca? Cerca risposte, cerca se stesso e si trova, poi però si perde, poi si ritrova in un viaggio lungo moltissimi anni, lungo praticamente un'intera vita. Sidarta è stato pubblicato per la prima volta nel 1922, spopolando dapprima in America e poi praticamente in ogni parte del mondo. Forse resta comunque il libro più conosciuto di Herman S. e forse anche quello più amato. Io non ci giro attorno, a me Sidarta non è piaciuto, sicuramente avevo aspettative altissime da questo libricino, ero convinta fosse un libro che in qualche modo mi avrebbe cambiato un po' la vita, che mi avrebbe fatto vedere le cose in un modo diverso. E tutto questo non è successo, anzi, se devo essere sincera, Sidarta mi ha anche piuttosto annoiato, dall'inizio alla fine proprio. C'è stato solo un capitolo che mi è piaciuto, o comunque l'ho apprezzato molto di più rispetto agli altri capitoli, però non l'ho apprezzato tanto da farmi sconvolgere, cioè da stravolgere l'opinione generale che poi io mi sono fatta di questo libro. Fin dall'inizio poi ho avuto anche difficoltà con lo stile. Da un lato mi è piaciuto questo suo stile di Herman S. perché sembra molto una favola, sembra che l'autore mi stia raccontando una favola o una fiaba, però ho comunque fatto fatica ad abituarmi a questo stile e devo dire che non l'ho nemmeno trovato sempre di semplice comprensione. È un libro che va letto con molta attenzione perché lo stile non è immediato, quindi bisogna abituarsi un attimo e poi capirlo. E invece per quanto riguarda la storia, come vi dicevo, non c'è stato nulla che mi abbia fatto dire wow, che libro, non c'è stato nulla che mi ha fatto emozionare, non c'è stato nulla che mi ha aiutato a cambiare la visione delle cose, del mio mondo, cambiare prospettiva. Io speravo che questo libro facesse proprio questo. Ci sono state delle parti che mi sono piaciute, perché ho anche sottolineato diverse cose, però per me non è stato abbastanza. Sicuramente è anche colpa delle mie aspettative veramente altissime. Se vi chiedete, ma quindi Erika ce lo consiglio oppure no? In realtà sì, ve lo consiglio, perché sono estremamente convinta che in generale i classici vadano letti, perché sono libri che hanno una certa importanza nella nostra cultura e credo sia giusto che ognuno di noi abbia una sua opinione in merito per dire ok, io questo libro l'ho letto e non mi è piaciuto per questi motivi oppure mi è piaciuto per questi motivi. È proprio una questione di conoscenza personale, quindi nel momento in cui ci saranno sempre dei classici che a me non sono piaciuti, non vi andrò mai a dire no, non leggetelo, perché sono libri troppo importanti per non essere letti, per come la vedo io ovviamente. Poi veniamo all'ultimo libro classico di cui vi voglio parlare oggi, ed è Il fumatia Pascal di Luigi Pirandello, che io in queste edizioni della Burr non era questa l'edizione che volevo maledetto libraccio infame, appunto l'ho preso dal libraccio online, quindi non so dirvi il prezzo di copertina. Anche qui qualche parolina su Luigi Pirandello, quindi sull'autore prima di addentrarsi nel libro. Pirandello è stato un drammaturgo, uno scrittore e un poeta. Anche lui ha vinto il premio Nobel per la letteratura, siamo nel 1934, giusto due anni prima, se non erro, della sua morte. Per la produzione, le tematiche trattate e l'innovazione del racconto teatrale, Pirandello viene considerato uno dei più importanti drammaturghi del XX secolo. Il fumatia Pascal in realtà è uscito a puntate nel 1904 su nuova antologia per poi uscire comunque in un unico volume sullo stesso giornale. L'opera di Pirandello si rifà il filone umoristico del 700-800 e sicuramente la scelta nel farlo uscire a puntate ha permesso che l'opera sia stata fruibile da un pubblico più vasto e forse aver inserito dei riferimenti autobiografici qui e la ha sicuramente incuriosito i lettori. Mattia Pascal, il protagonista, è insofferente nei confronti della vita. Dopo essere stato dato per morto dalla moglie e dalla suocera, decide di non ritornare a casa e di godersi la sua nuova vita sotto un altro nome, Adriano Meis. Mattia però ben presto capisce che questa nuova vita in realtà non lo porta innanzitutto a essere felice come invece credeva e non lo porta nemmeno ad avere quella libertà che lui tanto sperava di ottenere. Quindi lui decide di ritornare alla sua vecchia vita, quindi da sua moglie, dalla suocera, per riprendersi in mano appunto le cose dove le aveva lasciate, per riprendersi la sua vecchia identità non rendendosi conto in realtà che tutto questo provocherà ancora maggiori problemi scatenando eventi tragicomici. Il fumo a Tia Pascal ha sicuramente un valore dal punto di vista sociale. Nel libro si parla infatti di cambiamento esistenziale, si parla di perdita di certezze, il fatto che non si condividono le regole, le norme imposte dalla società. Tutto luota alla ricerca di una propria identità, di una propria felicità e soprattutto di una propria libertà. Tutta questa riflessione di Pirandello è comunque legata a una serie di eventi che appunto definisco tragicomici e che a volte sembrano poco credibili, però si sorvola su questa cosa perché rimane evidente qual è il messaggio dell'autore, il fine ultimo dell'autore. L'autore infatti ci fa capire che è impossibile sfuggire alle regole e ai ruoli imposti dalla società perché anche se dovendo seguire queste regole, questi ruoli, a noi sembra di non avere libertà. In realtà è proprio il contrario. Nel momento in cui decidiamo di scontrarci con queste regole e con questi ruoli saremo ancora più limitati perché diventeremo delle semplici presenze fisiche su questo mondo e nient'altro. Se all'inizio tutto può sembrare divertente, comico e anche leggero, man mano che si procede con la vicenda si percepisce sempre di più la drammaticità della situazione e della vita di Mattia. All'inizio Mattia era un giovane che sperperava denaro, che nemmeno guadagnava lui praticamente o che non si è mai impegnato a guadagnare, poi improvvisamente ha dovuto affrontare due lutti tragici, uno dietro l'altro, per lui molto importanti, lo hanno molto segnato, ha dovuto affrontare anche la sua stessa morte che per quanto sia finta è comunque un po' tragica per se stessi, no? E subito dopo c'è stata la fuga e solo poi il ritorno. Ed è stato proprio quando questi toni hanno cominciato a cambiare, quindi dal comico al drammatico, che il fumati a pascal ha cominciato veramente a conquistarmi. La superficialità di Mattia all'inizio mi annoiava, addirittura ho pensato ma perché dieci anni fa questo libro mi era piaciuto così tanto? Infatti per me, quando l'ho letto, si è trattato di una rilettura, mi capacitavo del perché mi fosse piaciuto così tanto. Addirittura avevo pensato di abbandonarlo anche per colpa di uno stile non proprio immediato e di facile comprensione. Quando i toni si sono fatti pesanti, quando è emerso Mattia consapevole di sé e del mondo attorno a sé, allora la storia di Pirandello ha cominciato a conquistarmi. Mattia è stato un uomo che ha voluto cambiare, ma ha voluto farlo nel modo sbagliato, che non portava assolutamente a nulla, nulla di buono, se non all'annullamento di sé stesso. Questo quindi è stato quello che mi ha spinto a continuare con la lettura, che mi ha spinto poi ad apprezzare il libro e che mi spinge adesso a consigliarvelo. Bene ragazzi, questi erano i tre classici di cui vi volevo parlare oggi. Io ve li lascio qui sotto linkati ad Amazon, con cui sono affiliata, e anche a DBS, con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto. Se li avete letti fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con me oppure no, se invece non li avete letti fatemi sapere se vi ho incuriosito. Detto questo vi ricordo che qua sotto trovate il mio account Coffee, se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi, e trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Modrizza, il canale Telegram per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. A questo punto direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!